Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Barbara D'Urso, dopo aver trascorso le vacanze in Sicilia con la famiglia, si è recata a Formentera con gli amici. Tuttavia, nelle ultime ore, la conduttrice ha interrotto la sua vacanza per un misterioso appuntamento di lavoro. È stata lei stessa, tramite Instagram, a comunicare ai suoi fan l'importante incontro. Accompagnata dall'assistente e migliore amica Angelica, Barbara ha condiviso una foto di Roma con la didascalia, appuntamento segreto. Si tratta di un incontro lavorativo. Siamo pronte e concentrate? Si va, noi andiamo e poi vedremo. La domanda che tutti si pongono è, si tratta di un nuovo progetto televisivo o qualcos'altro. Al momento non ci sono dettagli al riguardo. Durante un evento in Sicilia qualche settimana fa, Barbara aveva lasciato intendere che presto sarebbe apparsa su un nuovo canale televisivo. Secondo alcune fonti, le reti più probabili potrebbero essere Nove o Rai. In particolare, si ipotizza che possa partecipare a Ballando con le stelle su Rai. Tuttavia, Millie Carlucci ha sottolineato che per partecipare al programma bisogna essere disposti a mettersi in gioco e raccontarsi. Barbara D'Urso ha concluso il suo misterioso incontro di lavoro, lasciando tutti con il dubbio se possa essere legato a una partecipazione a Ballando con le stelle. Resta quindi da attendere ulteriori sviluppi per scoprire quale sarà il prossimo progetto televisivo.